Ben trovati con lo spazio cura di meteocalabria.net. Persiste un tempo anticiclonico, garanzia di stabilità. Mercoledì 3, cielo in genere sereno, salvo locali e temporanei annuvolamenti sul basso Tirreno, venti deboli, mari poco mossi, mosso solo il basso Ionio. Temperature stazionarie più alte della norma nei valori diurni e fredde nottetempo e dal primo mattino, principalmente nelle conche valive e sui monti, aree dove saranno possibili locali gelate. Condizioni del tempo prettamente invariate anche per giovedì 4 marzo, martirreno calmo, poco mosso lo Ionio. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.